Intanto bisogna fare delle macro regioni, cambiare completamente l'assetto istituzionale del paese, fare le riforme che da tempo si attendono, quindi le regioni devono essere enti o le macro, sarebbe più opportuno le macro, enti solo di programmazione e pianificazione, non devono gestire, non ci possono essere due stati, stato regione e stato nazionale, fare le stesse cose, farle con maggiori mezzi, con maggiori costi, quindi bisogna semplificare. E' il momento di fare le grandi riforme del paese che attende, bisogna partire dalle regioni. E del federalismo cosa pensa? Il federalismo si è equilibrato, quindi è uno stato che delega i poteri e allora vengono esercitati, ci sono tanti stati federali che vivono benissimo, è un po' difficile in Italia perché coniugare una tradizione di governo statuale forte con un sistema delle autonomie prevalentemente diffuso tra i comuni, quindi questo sistema non è facile da organizzare in Italia. L'unica cosa è che non si può stare in mezzo, cioè non fare né l'uno né l'altro, quindi in questo caso o c'è lo Stato o ci sono le regioni come enti di gestione. Per il Sud può essere penalizzante questo federalismo? Lo è, ne fatti, perché non è un federalismo, è un'applicazione, come si suol dire, sperimentale di trasferimento di fondi e quindi questo penalizza chiaramente le aree deboli.